Amelia Mascioli, quinto meeting M2, prossimo weekend. Sì, siamo giunti alla quinta edizione, a noi sembra ancora incredibile perché sembra ieri in realtà che stavamo organizzando la prima, eppure nonostante siamo ormai al quinto step comunque c'è tanta attesa, tanta ansia, tanta organizzazione perché come ben potrei immaginare gestire 20 società che arrivano da fuori regione e rendere tutti i servizi al meglio, insomma è un grandissimo lavoro, un lavoro di squadra, di segreteria, di amministrazione, di tecnici. Quest'anno poi siamo ancora più contenti perché verranno delle importanti società da fuori, l'Acquaniene per esempio, che è un circolo ovviamente prestigiosissimo, che ha scelto il nostro meeting anziché puntare magari a meeting più vicini al loro territorio, tipo Viterbo, che è un meeting che si diciamo disputerà nelle stesse giornate e che ha ormai raggiunto insomma uno standard di qualità. M2 si affianca quindi a questi meeting, pur essendo ormai una società che insomma è da poco e si appresta nel pallinzesso natatorio, però riusciamo ad affermarci a questo punto, lo posso dire, perché è la realtà per la qualità e per la forza dei servizi che diamo e per me non può essere che una grandissima soddisfazione. Diciamo che siamo ormai addirittura all'arrivo, la struttura è già funzionalmente predisposta per queste manifestazioni, aspettiamo che arrivi sabato e che si aprano le danze in acqua. Due giornate, pomeriggio di sabato, poi tutta la giornata di domenica per una serie di manifestazioni che ancora una volta porteranno qui al centro, nel vostro centro, M2, diciamo tantissimi atleti. Sì, siamo arrivati a, diciamo, le richieste che ci sono arrivate provengono da 20 società, parliamo e ci aggiriamo intorno ai 300 atleti, per cui me l'Atleti Gara, considerato che in questo meeting noi dedichiamo una fetta importante anche ai bimbi, agli esordienti, perché oltre alle categorie assoluti avremo proprio un trofeo dedicato agli esordienti, per cui anche più piccolini si avvicenderanno a questa manifestazione, che si disposerà ovviamente in termini agonisti. La cosa che, ecco, ti peto, vorrei sottolineare è che riusciamo a fare movimento sportivo, movimento natatorio, forse siamo l'unica società nel Molise che organizza questi eventi, nonostante il notevole numero di piscine ormai diffuse sul territorio. E la cosa, appunto, che ci fa onore, che fa onore al nostro gruppo, alla nostra società, è che, appunto, i nostri meeting sono sempre più partecipati, per cui anche considerato il periodo di crisi e, ovviamente, le vicende di questo momento storico, il fatto che riusciamo a tenere testa a questi eventi sicuramente è una conferma che in qualche modo stiamo lavorando bene, e che riusciamo a traghettare nel territorio atleti, accompagnatori e visitatori che conoscono il Molise anche attraverso l'M2 e anche quindi attraverso le nostre manifestazioni. Certo, non posso dirti che ho un po' di rammarico perché le società molisane scelgono di andare altrove anziché rimanere a casa, però, ecco, mi fa onore il fatto che ci scelgono dal Lazio, dalla Puglia, dalla Campania e quindi, in qualche modo, la nostra posizione resta comunque accreditata. Un'ultima cosa, bocca al lupo per questo meeting, però adesso vi siete anche, diciamo, spostati sul centro commerciale, insomma, è possibile venire qui e non fare più solo sport, ma anche acquisti? Sì, è da un mese che abbiamo inaugurato la galleria commerciale, ovviamente la Telemolise è sempre stata presente, anche in questa occasione importante per noi perché abbiamo finalmente chiuso un cerchio, nel senso che l'idea e la ragione dell'M2 è stata proprio quella di creare un contenitore capace di poter garantire il maggior numero di servizi, quindi da quelli sportivi al benessere, da quelli relativi alla persona ed ovviamente anche ai servizi. Adesso, con l'apertura del centro commerciale, riusciamo a far sì che gli utenti che scelgono di venire al nostro centro possono soddisfare tutte quante le esigenze e i bisogni familiari, personali e non. Per cui un altro tassello aggiunto, stiamo lavorando bene anche in questa direzione, come dire, il cerchio è completo, dobbiamo soltanto procedere e andare avanti.